Allora, questa mattina vogliamo andare a Betlemme perché siamo collegati telefonicamente in videochiamata con Don Lorenzo Saggiotto, missionario salesiano, referente del centro di addestramento professionale dell'oratorio a Betlemme in Palestina. Buongiorno Don Lorenzo, benvenuto. Buongiorno, ben trovati. Buongiorno Don Lorenzo, grazie per essere con noi. Io vorrei partire con una ricorrenza felice perché purtroppo parliamo di Terra Santa, lo facciamo a motivo del conflitto che dal 7 ottobre ha subito una recrudescenza importante. Però in questi giorni, cari amici, ricordiamo anche il sessantesimo anniversario del viaggio di un pontefice, Paolo VI, la prima volta di un pontefice in Terra Santa. Mi piaceva ricordare questa ricorrenza, lo è stata fino a qualche giorno fa, però cadiamo ancora nell'anniversario importante. Con Don Lorenzo vogliamo parlare di quelle che sono le attività dei salesiani a Betlemme prima di concentrarci nello specifico. Allora Don Lorenzo, ci vuole spiegare quali sono queste attività che contraddistinguono i figli di Don Bosco a Betlemme nella Terra di Gesù? È chiaro che noi lavoriamo soprattutto nel campo giovanile, per cui i nostri orientamenti sono soprattutto nel campo della formazione professionale, dove sono coinvolti ragazzi e ragazze di varie età, da 16 anni in su fino anche ai 50-60 anni, c'è persone che si vogliono anche riqualificare dal punto di vista tecnico. Oltre all'insegnamento tecnologico abbiamo anche l'università, cioè siamo collegati con l'università di Betlemme e abbiamo aperto da quest'anno il ramo di ingegneria in energie rinnovabili. Oltre a questo noi gestiamo anche un forno che non è solamente per produrre pane, ma è soprattutto per aiutare molte famiglie che in questo periodo, soprattutto a causa della guerra in corso, si trovano con grandi difficoltà, in quanto prima lavoravano soprattutto nel campo del turismo e attualmente il turismo praticamente a Betlemme è completamente scomparso e molti di loro anche andavano a lavorare in Israele e naturalmente le strade, essendo chiuse, non possono più recarsi a lavorare. Di conseguenza moltissime famiglie sono rimaste senza un'entrata fissa. Oltre diciamo alla scuola e al forno gestiamo anche l'oratorio e un centro scout con oltre 220 ragazzi e ragazze che frequentano il nostro centro sia per attività educative come anche per attività ricreative, soprattutto nel campo della musica. Abbiamo anche inoltre un museo internazionale del presepio che durante il periodo in cui il turismo era, diciamo, aperto. È chiaro che era molto visitato da gruppi soprattutto provenienti da varie parti del mondo per, diciamo così, occupare del tempo ma anche allo stesso tempo per vedere molte opere presenti all'interno di questo museo. Inoltre, alla fine abbiamo anche una chiesa pubblica che gestiamo, che è frequentata soprattutto da gente della quartiere. Ecco, queste sono praticamente le nostre attività. Bene Don Lorenzo, con la speranza e l'augurio naturalmente che i pellegrinaggi possano tornare a fiorire in Terra Santa. Vogliamo puntare l'attenzione, abbiamo già visto delle immagini del forno che i salesiani gestiscono a Betlemme. Betlemme che significa città del pane. E allora, un forno che aiuta poveri e bisognosi, ma non solo. Ecco, in che modo? Ci spieghi come funziona il forno? Che cosa fate? Che tipi di pane fate? E a chi viene donato questo pane? Ma non solo. Dunque, il forno è nato fin dall'inizio dell'opera salesiana di Betlemme come sostegno all'ofanotrofio. Così, da una parte si produceva del pane da dare ai ragazzi orfani presenti all'interno dell'opera e in secondo luogo veniva venduto, per cui c'era una certa entrata che aiutava a sostenere gli orfani. Attualmente il forno produce una grande quantità di pane, circa sui 300 kg di pane al giorno. Attualmente stiamo anche sostenendo oltre 60 famiglie che hanno, diciamo, problemi finanziari dovuti alla situazione economica che stiamo vivendo, per cui diamo loro il pane gratis. E oltre alle famiglie, anche altri centri di accoglienza che si occupano soprattutto di assistenza sia per indicapati, sia per ammalati o sia anche per case di riposo, perché offriamo loro il pane gratis in maniera che possano così anche avere un prodotto buono, molto buono anzi, perché è molto apprezzato il nostro pane e naturalmente anche questo comporta un aiuto finanziario nei confronti di queste opere e di queste famiglie. Mi piace anche sottolineare il fatto che questo forno sia una sorta di impresa sociale che vuole tradurre anche per certi versi quella che è la cosiddetta economy of Francesco. Questo modo nuovo, potremmo dire, di vedere l'economia che Papa Francesco davvero da tanto tempo sta portando avanti, sta teorizzando attraverso le encicliche, la Laudato Si, la Laudate Deum, ma anche attraverso gesti eloquenti. Ecco, da questo punto di vista, allora, Don Lorenzo, mi piace sottolineare il fatto anche che la Terra Santa, essendo anche incrocio di culture, di religioni, serve a sfamare ovviamente i fratelli di tutte le religioni. non è solamente appannaggio ovviamente di una parte cristiana o di un'altra parte che possa essere musulmana, ma è il forno di tutti, il forno fratelli tutti, potremmo chiamarlo. Sì, il nostro forno, diciamo così, offre un aiuto non solamente a persone cristiane, ma a tutti quanti si presentano e chiedono di poter avere questo aiuto che naturalmente noi offriamo con l'aiuto di tantissimi benefattori, perché senza avere dei benefattori alle nostre spalle che coprono il costo, diciamo, sia della farina che del lavoro che viene fatto, è chiaro che noi non possiamo distribuire grosse quantità di pane. Però con l'aiuto di tanti benefattori, soprattutto, diciamo, dall'Italia, ma anche da altre parti del mondo, riusciamo a offrire questo pane per mesi e mesi. Tanto per tornare un po' indietro, diciamo, nei momenti forti del coronavirus siamo arrivati a offrire il pane gratis a oltre 130 famiglie ogni giorno, oltre a varie associazioni. Oggi, come oggi, stiamo cercando di offrire sempre più del pane a famiglie povere proprio a causa della situazione che si è venuta a creare con la guerra. E naturalmente sono tantissimi che si presentano a noi e chiedono di poter avere questa possibilità di avere il pane quotidiano ogni giorno che li possa, almeno, aiutare durante questo periodo di difficoltà. Don Lorenzo, in conclusione, ha parlato di benefattori. Grazie appunto a loro e alla provvidenza. Riuscite ad acquistare farina e gli altri ingredienti per poter sfornare il pane. Noi, a distanza, come possiamo aiutarvi? È molto importante che possano arrivare da noi degli aiuti proprio per continuare quest'opera, che non è solamente l'opera, diciamo, di offrire del pane, ma anche stiamo pensando ad aiutare, a creare dei lavori all'interno della nostra opera, anche fuori, e dare una paga giornaliera a queste persone che hanno perso il lavoro. E questo, naturalmente, li motiva di più, in quanto non si danno solamente degli aiuti così gratis, ma potendo lavorare, fare gli imbianchini, facendo qualche lavoro di manutenzione ordinaria all'interno della nostra opera, anche in altre opere, con questo si dà loro una motivazione su quanto viene loro, diciamo, dato come, diciamo, aiuto finanziario. Bene, grazie. Allora, rimandiamo, appunto, ai nostri amici anche al sito, ai contatti. Basta digitare su un qualsiasi motore di ricerca Salesiani Don Bosco, appunto, e troverete il sito internet e tutti i contatti per aiutare le missioni dei Salesiani in Terra Santa, in particolare, appunto, a Betlemme. Grazie, grazie a Don Lorenzo Sagiotto. Un abbraccio da San Giovanni Rotondo. Grazie a voi, buongiorno, buona giornata a tutti voi. Ciao, grazie ancora a Don Lorenzo. Ringraziamo ancora Don Lorenzo. Davvero, potremmo dire, Paola, si traduce in opera concreta quell'espressione del Padre Nostro dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ed è davvero bello il fatto che questo avvenga nella terra in cui queste parole sono state pronunciate per la prima volta, la Terra Santa, la Terra di Gesù. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi insieme per il primo spazio informativo di giornata.